Ruotare ok con molta cautela, via la macchina in velocità, chiusura, Novarica scende lungo i birilli nei confronti di Pancottina Bar con all'argo Lambro, punta in avanti Tony Young, 13 e un battito in lancio, nelle prime posizioni Magico, poi Ribogal, Ribogal subito sposta, sta passando Lambro, completamento dei 400, in 28 e 3, Ribogal anticipa Rotary, a sua volta anticipato da Magico, Ribogal si presenta, sarà un classico freeway, probabile con un po' di spesa, 600, se ne vanno in 42 e 4, è impiegata Ribogal alle prese con Lambro e per il momento non manda via Lambro, si va al completamento del Mezzomiglio, Mezzomiglio passato in 56 e 7, alla finestra Rotary ok, poi Magico e ora Ribogal fa sul serio, sta passando come un'ombra Rotary, chilometro, gettonati in 1, 11 e 3, 14 e 6 di frazione, 500 alla meta, richiesto Ribogal, poi Rotary, i cavalli affrontano la curva finale, si affaccia Magico di nome e di fatto, e Rotary sta già passando, 14 e 9, 1, 26 e 2, 3 quarti di miglia, scappa via Smorgon, e ok 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 Rotary ok, retta d'arrivo con Rotary ok per propria dimensione, poi uno splendido magico, controlla Rotary, non c'è più tempo, non c'è più tempo, fa un ciocco Rotary, alla grande, perfect, terzo sul traguardo, signori ancora una volta, cronometra da buttare via, 1, 54 e 7, ripeto, 1, 54 e 7, 1, 11 e 7, per l'ok ok ok Rotary, che finalmente, dopo tanto chiacchiericcio, abbiamo visto quanto vale e che cosa vale questo targato ok, Rotary ok, Marco Sborgon.